Musica Ben trovati al TG6 L'Aquila, in apertura il master plan per l'Abruzzo. Oggi infatti a Palazzo Silone c'è stata una riunione della maggioranza per mettere a punto gli ultimi dettagli dell'elenco delle opere da presentare al governo. Il servizio è di Filippo Tronca. Un libro dei sogni, il bignami di promesse elettorali degli ultimi decenni, ovvero grandi e piccole opere annunciate ma mai realizzate. E il master plan per l'Abruzzo, ovvero un pacchetto di interventi infrastrutturali dal valore solo per la nostra regione di 500 milioni di euro, che dovrà essere nei prossimi giorni consegnato al governo per diventare parte integrante del master plan per il rilancio del sud, voluto dal presidente del Consiglio Matteo Renzi, annunciato proprio nella sua visita di agosto all'Aquila. Oggi a Palazzo Silone, in una riunione di maggioranza, si sono messi a punto gli ultimi dettagli. L'elenco delle opere assicurano tutti, cioè, ma è ancora segretato. Qualcuna di esse l'anticipa, però lo stesso presidente della regione, Luciano D'Alfonso. Il punto è stato definito, abbiamo messo in evidenza interventi consistenti sul recupero di efficienza del ciclo idrico integrato, abbiamo messo anche in efficienza la sicurezza del suolo e del sottosuolo, e poi abbiamo preteso anche dare continuità e compiutezza all'armatura delle piste ciclabili, del cicloturismo e delle ciclovie abruzzesi. E poi, naturalmente, una parte molto significativa è destinata alla mobilità della gomma, del ferro e dell'acqua. C'è l'Aquila Pescara, c'è il quarto lotto della Teramo Mare, c'è l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto di Pescara, c'è l'ultimo miglio ferroviario del porto di Vasto, e poi, naturalmente, ci sono opere di messa in sicurezza, anche concernenti, per esempio, la Pedemontana, nel tratto Guardiagrele-Fara San Martino, al servizio anche delle imprese. Ci sono interventi significativi per quanto riguarda l'autostrada e il Liri. Ora la cronaca è ricoverata in gravi condizioni. La donna investita ieri a Montereale, un comune dell'Aquilano. La donna di 62 anni è stata falciata da un'auto pirata nel rettilineo di Marana di Montereale, nei pressi del cimitero della Frazione. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento e stanno svolgendo le indagini i carabinieri, poiché il mezzo che l'ha investita non è stato identificato e pare che al momento dell'impatto non ci fossero testimoni oculari sul posto. Ancora cronaca, perché potrebbe esserci una vendetta alla base dell'agguato di cui è rimasto vittima nella notte di domenica a Magliano De Marzi un carabiniere in pensione. Dalle telecamere installate sul portone si vede un uomo con il volto coperto che imbraccia un fucile. Prima le bombe e carta lanciate all'indirizzo della sua abitazione e della sua vettura, poi quando il pensionato è uscito di casa lo sconosciuto ha fatto fuoco con un fucile a pallini, quelli utilizzati per la caccia. L'intenzione, secondo gli inquirenti, era quella di uccidere. La famiglia ha fatto sapere di non aver mai avuto problemi con nessuno in paese. La pagina sindacale vede al centro la Intex, è lo sciopero di otto ore che ci sarà domani, perché i lavoratori hanno deciso di manifestare simbolicamente per riportare all'attenzione la loro vertenza. Mancano infatti le commesse, soprattutto da gennaio, non ci sarà più neanche lo strumento degli ammortizzatori sociali, il servizio. Uno sciopero di otto ore domani alla Intex dell'Aquila, all'ex Technolabs, a proclamarlo le RSU e la FIOMCGL, per riportare all'attenzione della città tutta le problematiche e l'avvertenza del laboratorio di ricerca e sviluppo. Da anni ormai la commessa principale per la Intex è rappresentata dai contratti di solidarietà, che purtroppo coinvolgono la maggioranza dei ricercatori presenti in azienda. Ora, a causa della recente riforma degli ammortizzatori sociali, è a rischio anche questa possibilità, che ad ogni modo finora ha garantito ai ricercatori e alle loro famiglie un reddito almeno dignitoso. Dal 1 gennaio 2016, infatti, questo non sarà più possibile. In questi anni, secondo le rappresentanze sindacali, l'azienda non è riuscita a portare nuove attività sul territorio e nonostante ripetuti incontri, un percorso per recuperare lavoro non c'è stato. Un'avvertenza seria questa, che mette a rischio seriamente posti di lavoro e professionalità. I lavoratori manifesteranno simbolicamente davanti alla vecchia sede, un modo per invitare il prefetto e la regione, scrivono i sindacati, a muoversi anche su questa avvertenza. Il Comune dell'Aquila si deve costituire parte civile nel processo Grandi Rischi Bis, che vede come imputato Guido Bertolaso. Lo chiedono in liste civiche appello per l'Aquila e l'Aquila che vogliamo. Sarebbe grave, dicono in una nota, se ciò non accadesse, visto che quello è il processo alla parte politica che organizzò l'operazione mediatica della Commissione Grandi Rischi. Sono oltre sei anni che questa città, su quella vicenda, come molte altre, chiede semplicemente verità e giustizia, di sapere come andarono effettivamente le cose e di sancire tutte le responsabilità per le rassicurazioni disastrose date ai cittadini. Tra la fine dell'anno e l'inizio del 2016, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere arriverà ad impegnare la quasi totalità dei 126 milioni dei fondi stanziati per la ricostruzione pubblicata dal Cipe del 2012, grazie alle progettualità espresse dai Comuni rispetto allo stato di avanzamento di tali impegni al 30 settembre del 2015, pari al 62%. La previsione emerge in concomitanza con l'aggiornamento del sito web dell'Ufficio Speciale, che indica lo stato dell'arte complessivo della ricostruzione pubblica nei Comuni del Cratere. In particolare, digitando il link www.usrc.it nella sezione Attività ricostruzione pubblica e progetti di cantieri della ricostruzione pubblica, selezionando la cartella di una delle otto aree omogenee, è possibile navigare comune per comune per verificare la situazione di ogni singolo intervento. Il rilancio del Teatro Stabile Regionale del TSA, al centro dell'incontro che c'è stato questa mattina tra Nathalie Dompe, nuovo presidente del Teatro Stabile d'Abruzzo, il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Ci racconta tutto i dettagli di questo incontro, Filippo Tronca, nel prossimo servizio. E' arrivata puntuale e determinata per il primo incontro ufficiale con il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, Nathalie Dompe, ventottenner a bolla del gigante dell'industria farmaceutica, presente anche all'Aquila da vent'anni, il neopresidente del Teatro Stabile d'Abruzzo. Parto dal nome esordisce la Dompe, ovvero di un teatro che deve rafforzare il suo essere patrimonio di tutti gli abruzzesi. E' emozionante essere qua per la prima volta in questa veste, devo dire che c'è tanto da fare, quindi in questo momento l'unica mia voglia, l'unica mia preoccupazione è di rimbucarmi le maniche, avere un quadro preciso di quello che sta succedendo, avere un quadro preciso delle possibilità e affrontarle nel migliore dei modi con tutte le mie energie, questo ve lo prometto. Il Teatro Stabile d'Abruzzo, chiamato così ormai da un bel po' di anni, ha passato varie denominazioni, però ha un significato questo nome, un significato che va portato con grande garanzia di quello che può offrire la cultura in questa regione bellissima. E alle critiche che hanno accompagnato la sua nomina, la Dompe replica restando sul pezzo, nel teatro come nella vita, la dialettica e il sale di una buona drammaturgia. Le critiche sono sempre comunque critiche costruttive, devo dire che ognuno ha il proprio punto di vista e nessuno, anche tutte le persone che hanno criticato, nessuno ha detto cose negative a priori, eccetera, eccetera, hanno criticato un contesto e posso capirlo nel momento in cui chiedo semplicemente che mi venga dato il tempo e che siano poi fatti a parlare e non le opinioni personali e iniziali. La perdonanza aquilana candidata a divenire patrimonio immateriale dell'UNESCO, ormai se ne parla da un po', il giubileo aquilano, il più antico della storia, compare infatti nella lista dell'UNESCO, grande soddisfazione da parte del sindaco Massimo Cialente, già si pensa alla prossima edizione, a quella 2016, dell'evento celestiniano e il servizio. L'Aquila e la sua perdonanza patrimonio immateriale dell'UNESCO, il giubileo tutto aquilano, il primo e più antico della storia, compare infatti nella lista ufficiale sul sito internet dell'UNESCO, dei candidati a riconoscimento di patrimonio orale e immateriale. All'Aquila ovviamente si è già in fermento, vista la grande occasione, per preparare l'edizione 2016 della perdonanza celestiniana, anche considerando il giubileo lanciato da Papa Francesco e aperto a tutte le città italiane, che vedrà l'Aquila protagonista per la sua storia ovviamente, legata a Papa Celestino V e alla Porta Santa. Per l'Italia quest'anno c'è solo la candidatura della perdonanza aquilana, scritto il sindaco Massimo Cialente. Non è possibile infatti presentare più di una candidatura a Paese. Un percorso questo, iniziato già nel 2010 dopo il terremoto, su impulso di un gruppo di intellettuali e storici cittadini. L'essere inseriti nella lista dell'UNESCO ovviamente rappresenta una grande chance per l'Aquila. Attraverso la lista infatti, l'UNESCO garantisce visibilità alla città e i suoi elementi storici e materiali. E parliamo ora di Giubileo della Misericordia in provincia dell'Aquila. Ci spiega tutto Germana Dorazio nel prossimo servizio. Si è costituito il Comitato per le celebrazioni del Giubileo della Misericordia della provincia dell'Aquila, composto dalla Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, dal Comitato per Donanza Celestiniana, dall'Arcidiocesi dell'Aquila, dal Movimento Celestiniano e dalla Regione Abruzzo. Nella sede della Fondazione è stato presentato il nuovo organismo che è a lavoro già da alcune settimane per il sostegno all'organizzazione delle iniziative culturali che andranno ad affiancarsi a quelle religiose, con lo scopo di valorizzare i luoghi toccati dai cammini del perdono che nel territorio aquilano hanno il loro fulcro nella figura di San Pietro Celestino V e della sua perdonanza celestiniana. Il Comitato, che avrà un ruolo di coordinamento, coinvolgerà nei prossimi giorni anche i Comuni e le associazioni di categoria della provincia dell'Aquila, nella convinzione che il giubileo straordinario che sta per iniziare debba essere un'occasione per attivare le giuste sinergie e lavorare all'unisono verso una promozione del territorio. In apertura è intervenuto Don Vito Isacchi della Segreteria dell'Arcivescovo dell'Aquila per ribadire il messaggio prettamente spirituale dell'evento. Misericordia e pace sono gli argomenti dei sermoni di San Berardino, ha detto, che malato volla essere all'Aquila per ribadire che Dio è un padre misericordioso e che il frutto della misericordia è la pace con se stessi e con gli altri, ma anche con il creato e con Dio. Il giubileo straordinario è dunque un'occasione per vivere nella misericordia e costruire la pace nel quotidiano. In questo senso ha aggiunto poi Fanfani, il presidente della Fondazione Carispa, che abbiamo già avviato un lavoro con le associazioni del territorio al fine di coordinare e calendarizzare le iniziative che si andranno ad organizzare in sintonia con il messaggio giubilare. Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri dell'Aquila, il colonnello Giuseppe Donnarumma, comandante provinciale dei Carabinieri, lascia infatti il capoluogo abruzzese per assumere un importante e prestigioso incarico al reparto operativo del Comando Provinciale di Roma. Il consiglio direttivo dell'ente Parco ha deliberato di dare mandato alla comunità del Parco Gran Sasso Monti della Laga affinché predisponga il piano pluriennale economico e sociale in attuazione di quanto previsto dalla legge 394 sulle aree protette, invitando contestualmente la stessa comunità ad adottare un piano e un proprio regolamento. Il fine si legge in una nota del Parco di attuare una sempre più integrata sinergia tra le aspettative locali e le decisioni dell'ente. Il piano, sottolineato il vicepresidente del Parco Maurizio Pelosi, è un importante strumento di programmazione finalizzato alla promozione sul territorio di attività compatibili. Esso apre dunque una nuova prospettiva per il Parco, sia in termini di buon governo del territorio, sia per operare più efficacemente e per lo sviluppo sostenibile per il bene delle comunità che abitano e operano nell'area protetta. E ora il rugby, piccoli campioni crescono. Sono stati premiati gli alunni della scuola media Dante Alighieri dell'Aquila che hanno trionfato i campionati studenteschi nazionali di rugby. Il servizio. Piccoli campioni del rugby crescono. Dovranno mangiare tanta polvere per diventare come gli All Black. Ma intanto i ragazzi delle scuole medie Dante Alighieri, Carducci dell'Aquila e di Paganica hanno trionfato i campionati studenteschi tenendo alto il nome dell'Abruzzo, sbaragliando nella fase finale le squadre studentesche di Sicilia, Lazio ed Emilia Romani. Il rugby è una scuola di vita, spiega il professore allenatore Francesco Marinelli. E come nella vita vince non chi è grosso, ma chi cade, si rialza e non si ferma. Questo è stato, sono i campionati studenteschi dove noi ogni anno partecipiamo da una fase provinciale, poi la fase regionale e poi quest'anno abbiamo avuto la possibilità di andare alla fase nazionale che sarebbe dovuta fare a maggio, poi per altri motivi. è stata posticipata a ottobre. Siamo riusciti, bene o male, a riprendere questi ragazzi che stavano nelle altre scuole per cui oggi sono qui presenti anche se ormai sono ex di questa scuola. Ci sono ragazzi promettenti? Sì, ragazzi ci sono. Se continuano a giocare dobbiamo cominciare sempre dal basso per poter portare i campioncini, per poter dare a questa città una continuità soprattutto a livello anche dopo signore se riescono ad arrivare a quelle categorie. Qual è il valore educativo del rugby? Dunque il rugby è soprattutto uno sport di contatto quindi fa emergere tutta la personalità di un ragazzo. Uno sport di sacrificio e poi uno sport che tutti possono giocare. non è vero che bisogna essere grandi bisogna avere soltanto una sola capacità di andare avanti è la cosa più importante se siamo capaci di andare avanti nel rugby come nella vita come nella vita bisogna andare avanti. Con questa notizia termina il nostro telegiornale io vi ringrazio come sempre per la cortesia e attenzione rimanete su TV6 per la nostra programmazione arrivederci. Grazie a tutti i nostri amici.